Lini, Tapianelli, Cotelli, Bragaglia, Taborri, Bocciani, Mici, Montoni, Salsa, Terri, Ragazzini, Simonicini, Federici, Benati, Marcosano, Salvatore, Marcucci, Raggi, Turchetti, Milioni, Stella, Spagioni, Busco, Binna, Obino, Cosetti, Guancini, Serra, Quintarelli, Passente, Ciambella, Passente, Coscarelli, Passente, Ricci, Persini, Inzogna, Natalini, Barbieri, Articolo 43, Topani, Treta, Talotta, Talucci, Innocenzi, Allora, con 4, articolo 43, un voto contrario, tutti i resti di voti favorevoli, la proposta è approvata a maggioranza, per immediata esecutività, per alzata di mano, Vi conto adesso il segretario, scusate un attimo, c'è una richiesta specifica, quindi commentata, 28 voti favorevoli, Allora, per l'immediata esecutività, chi è d'accordo? Contrari? Astenuti? Come sopra, precedentemente. Passiamo quindi al punto 2, all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina dell'imposta principale propria sperimentale, determinazioni. Grazie.